Musica I Nottolli Bluegrass nascono circa 4 anni fa su volere del maestro Bruno Tripodi che mi ha incontrato e fortunatamente abbiamo avuto la fortuna di creare questo gruppo. Poi a questo gruppo sono aggregati il chitarrista Carlo Coda, il maestro violinista Diego Barbalace e il maestro di contrabbasso Bruno Pigliuzzi. I Nottolli Bluegrass, che è il nome del nostro gruppo, si occupa di musica bluegrass che è una musica quasi sconosciuta nel meridione d'Italia. I Nottolli Bluegrass perché fa musica bluegrass in nostro gruppo, però risale alle origini del bluegrass e diciamo comprende tutti gli ultimi 300 anni di questa musica, da quando i primi pionieri irlandesi arrivarono in America e portarono questa musica in America, che nel corso degli anni del 700 e dell'800 ha subito una miriade di influenze. È la musica più contaminata al mondo, fino ad arrivare ai nostri giorni dove è stata standardizzata e suonata in un certo modo, che noi faremo in genere, noi faremo ascoltare. Diciamo, quando è stata standardizzata intorno agli anni 40-45 dai grandi del genere, la gente si accorta che poteva ascoltare musica veloce, per cui il rock and roll, il rock a bill e tutta la musica moderna si può dire che è nata dalla bluegrass. Grazie a tutti.